Sarebbero state destinate alla distruzione le 4 tonnellate di pellette di legno donate dalle fiamme gialle nei giorni scorsi alla Caritas di Ocesana di Vallo della Lucania. Si tratta di 250 sacchi di pellette di legno normalmente utilizzato per il riscaldamento sottratto al commercio illegale nel corso di un'attività di servizio svolta dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Vallo della Lucania sul territorio cittadino. I sacchi di biomassa pellettizzata, sebbene di ottima qualità per l'uso a cui sarebbero destinati, riportano in presso un marchio contraffatto col fine di eludere la normativa di certificazione di qualità del pellet. Il settore dei combustibili da biomassa a seguito della pandemia ha subito un significativo aumento dei prezzi che ha visto schizzare verso l'alto il costo del sacco del pellet, che è così passato da una media di 5 euro per un sacco di 15 chili, fino a registrare prezzi che sfiorano al supermercato anche i 13 euro, con un aumento del 120% in più rispetto all'anno precedente. La donazione della biomassa è stata possibile grazie all'iniziativa della Guardia di Finanza, che si è mobilitata nel chiedere ed ottenere dall'autorità giudiziaria l'autorizzazione per poter donare in beneficenza il materiale sequestrato, che altrimenti sarebbe stato destinato alla distruzione. Con l'approssimarsi della stagione invernale, l'iniziativa, oltre a fornire un aiuto concreto a coloro che si trovano in condizioni di indigenza, anche in considerazione dello spropositato aumento del prezzo del combustibile legnoso, permette di richiamare l'attenzione sul sempre più diffuso fenomeno di contraffazione, che danneggia in maniera significativa gli operatori economici che operano in regola. Al momento della consegna avvenuto presso la sede della Caritas, alla presenza del vescovo di Vallo della Lucania, Monsignor Ciro Miniero, e del direttore Don Aniello Adinolfi, questi hanno espresso parole di apprezzamento e gratitudine per la solidarietà manifestata, ancora una volta dalla Guardia di Finanza, la cui azione si estende anche oltre le ordinarie attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari per perseguire più ampi fini sociali.